Icchi di caldo o freddo infliggeranno una penalizzazione di affaticamento alle unità non abituate a combattere in quelle condizioni. Alcune unità sono naturalmente più resistenti a questa penalizzazione. Grazie a tutti. 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 La metatrice, dopo aver impartito gli ordini, la meta delle tue unità sul campo di battaglia verrà evidenziata da un'area ombreggiata. Questo ti servirà come riferimento per collocarle al meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo conquistato l'edificio, signore. Grazie a tutti. 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 Presto vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore. Grazie a tutti. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, il vostro generale è caduto. Che giorno orribile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nostri uomini sono in fuga, signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo ucciso il loro generale, signore. Andranno nel palico. Grazie a tutti. 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 Gli uomini sono stanchi, signore. Devono riposare. Abbiamo conquistare. L'edificio, signore. Grazie a tutti. Abbiamo conquistare. Abbiamo conquistare l'edificio, signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.